Procuratore, intanto tornare a Sciacca per lei è significato, lei è un nostro concittadino onorario. Eh sì, sempre una grande gioia, vengo con piacere, vengo non troppo spesso per la verità e non vengo solo per trovare colleghi, ma vengo sempre, come in questa occasione, veramente con grande soddisfazione, grande piacere e anche grande riconoscenza a questa città. Ospite d'eccezione della presentazione del libro di Rene Chias dal titolo Non cercare l'uomo capra, ieri sera alla multisala Badia Grande, il magistrato Dino Petralia, ex procuratore della Repubblica di Sciacca, oggi procuratore aggiunto a Palermo. Un ritorno importante è il suo, nella città che lo ha un po' adottato, un ruolo quello di osservatore e valutatore letterario che il magistrato ha deciso di rivestire col massimo dell'impegno possibile. Diciamo che per fare bene il magistrato bisogna occuparsi anche d'altro, questa è una cosa che ho sempre detto. E poi Rene Chias, potrei dire una concittadina perché è saccensa d'origine anche se è una cittadina del mondo. Mi è piaciuta, mi è piaciuta la sua personalità, mi sono piaciuti i suoi libri, non è solo questo il libro che ho presentato e non è la prima volta che presento questo libro, quindi credo di essere diventato un po' una sorta di presentatore ufficiale, ma anche in altri casi ci siamo cimentati. Un tema, quello trattato da Rene Chias nel suo libro, che è quello della multiculturalità. In questo romanzo ci sono tante nazionalità racchiuse, in una sorta di calidoscopio multietnico, qual è la sua opinione dopo averlo letto? Allora, la mia è un'opinione da lettore, ma da lettore, multirettore, perché l'ho letto già diverse volte, posso dire che è un libro del desiderio, è un libro dei viaggi, è un libro delle aspirazioni, e un insieme di libri. Di queste pagine oggi mi rimarrà sicuramente un ricordo bellissimo, perché sono pagine che si mescolano con la realtà di Sciacca e con le persone che sto rivedendo, non solo in ambito giudiziario, ma qua a Sciacca. Tra i numerosi spunti dell'attualità offerti dal romanzo della scrittrice Sacenze, c'è sicuramente quello dei nuovi fenomeni migratori. L'Europa addirittura ci rimprovera di non essere stata in grado di rispettare addirittura i diritti umani, e qual è la sua opinione? Beh, la mia opinione è un'opinione da cittadino e da magistrato. Da cittadino dico che stiamo facendo poco, anzi troppo poco, per questi migranti che dobbiamo accogliere, come siamo stati accolti noi in passato. Come magistrato devo dire che il nostro, della Procura di Palermo, è un grande impegno. Abbiamo un apposito gruppo che si interessa delle migrazioni, cosiddetto gruppo migranti, e su cui ovviamente puntiamo non tanto alla protezione, quanto alla repressione di chi li sfrutta, e che forse è la soluzione per una migrazione positiva. A moderare la presentazione del libro di Rene Chias, ieri sera alla multisala Badia Grande, davanti a un folto e qualificato pubblico, la collega giornalista Margherita Engoglia.